Io ne prendo due sott'esame, cioè Soleri e Valente. Il primo è un calciatore del quale la società e soprattutto il comparto tecnico del club rosanero non vuole assolutamente privarsi, però al contempo vuole dare l'opportunità al calciatore di poter avere le sue chance, cosa che in realtà è anche doveroso che possa chiedere anche Soleri, perché è stato fino ad oggi sempre il secondo, l'alter ego di Brunori. O anche il terzo. O anche il terzo ovviamente, o anche il terzo dopo Mancuso giustamente. E quindi è giusto dargli delle possibilità. In questo momento è quello più papabile per lasciare il club di Viale del Fante, ma penso anche Valente, come dicevo. Renato ci scrivi, i giocatori del Palermo non li vuole nessuno, né Soleri né Valente, hanno il loro mercato, ce le hanno le loro richieste, questo lo possiamo dire con certezza. Assolutamente, le richieste di mercato per quanto riguarda Soleri sono soprattutto da parte del Modena, il calciatore peraltro gradirebbe la destinazione Modena. C'è un giocatore dal quale non vi stacchereste, perché secondo voi ha ancora da dire, da dare qualcosa a questa squadra in questo campionato? Beh, io sicuramente ne del Cearu, perché lo scorso anno ha dimostrato un attaccamento importante alla maglia, quest'anno non ha mai fiatato, è sempre rimasto lì in panchina, l'abbiamo visto in qualche partita, ha anche trovato il gol, delle buone prestazioni, sicuramente di lui non mi priverei perché non è avanti con l'età. È un calciatore che conosce la Serie B, può dire la sua e ha anche voglia di conquistare il campo, perché è un calciatore del giro della Nazionale rumena, la Romania è anche all'europeo, quindi magari ha anche voglia di dimostrare il suo valore e di riconquistare la maglia della Nazionale che ha perso, quindi sicuramente di lui non mi priverei. Magari sempre in difesa, Marconi non me ne voglia, potrebbe anche partire, visto che è un po' più in là con gli anni in scadenza di contratto, quindi magari potrebbe fare spazio a un calciatore un po' più giovane che potrebbe apprendere il mestiere e magari il prossimo anno essere un po' più pronto.